Roberta Anesto, presidente della conferenza dei sindaci del litorale Veneto, ha scritto al presidente del Consiglio Mario Draghi, ai ministri delle economie e finanze, della transizione ecologica, delle infrastrutture e mobilità sostenibili, del turismo e al presidente della Regione Veneto Luca Zaia per esprimere la preoccupazione di famiglie e imprese a seguito dei rincari dei consumi energetici. C'è chi sta subendo ancora le conseguenze del Covid-19, afferma, e ora vive una situazione di difficoltà oggettiva, dovuta alla situazione internazionale e alla speculazione. La conferenza dei sindaci del litorale chiede un intervento congiunto tra Governo e Regione per attivare alcune misure atte a contenere gli aumenti, dando vita a uno specifico fondo per calmirare i prezzi e attuare politiche per indirizzarsi verso la transizione ecologica, oltre che incentivare le comunità energetiche. Come afferma il sindaco Anesto, presidente della conferenza, la situazione è preoccupante, a fronte anche di una crescente inflazione che erode sempre di più il potere di acquisto di lavoratori e pensionati. Il rischio è un aumento percentuale degli interventi in termini di aiuti sociali che i comuni non sono in grado di sostenere, stante i bilanci di cui dispongono. Sono invece disponibili al confronto e alla collaborazione, ma non è più possibile attendere oltre l'applicazione di politiche che nel loro complesso siano di sollievo da un punto di vista sia sociale che ambientale. Grazie a tutti! Grazie a tutti!